Il recupero della festa dei quattro altari al centro del convegno tenutosi ieri sera al circolo nautico di Torre del Greco in occasione della sesta edizione del premio dedicato a Monsignor Francesco Sannino. Un evento fortemente voluto come di consueto dalla nipote Giovanna Romano per premiare gli studenti meritevoli dell'Istituto Colombo e per accendere i riflettori su una festa che coniuga storia, fede, arte e identità di un territorio. L'intento di concerto con tutte le realtà coinvolte e con la nuova amministrazione comunale è quello di recuperarla nel segno della tradizione e dell'innovazione. Quest'anno ho scelto questa tematica perché penso che la cultura e le tradizioni della nostra città devono essere tramandate e attivate. E quindi attraverso questo libretto scritto da mio zio Monsignor Sannino lui ci spiega come rilanciare questa festa. E ciò che mi ha colpito molto è che questo libretto è stato scritto nel 1986. Quindi questo vi fa capire come è stato lungimirante Monsignor Sannino. Quindi io mi auguro che attraverso questo convegno organizzato da me, attraverso la disponibilità del nostro nuovo sindaco e attraverso anche i consigli scritti da Monsignor Sannino in questo libretto possa rilanciare questa festa che non è una festa qualunque, è una festa di fede, di arte e di cultura. Questa serata è stata anche l'occasione per la consegna di premi a studenti meritevoli dell'Istituto Colombo. Sì, sì, sono stati scelti sempre dai docenti e dalla dirigente scolastica quei due premi per i ragazzi meritevoli. E in questa occasione, quest'anno è un anno anche particolare perché ricorre il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Monsignor Sannino. Una tradizione importantissima per la nostra città da recuperare. Da recuperare immediatamente, immediatamente. Ho detto al sindaco Mennella che era la mia condizione per appoggiarlo, altrimenti non l'avrei fatto. Perché se alla pianta tagli le radici, la pianta muore, secca. Noi abbiamo tagliato le nostre radici. Bisogna immediatamente provvedere a riprendere la festa. Secondo lei come fare a ripartire? Da che cosa ripartire? Noi dobbiamo interpretare, seppure in un modo moderno, quello che facevamo. Io ho fatto il sindaco in un periodo in cui il presidente dei sindaci della Campania era il sindaco di Torre del Greco. Nell'ufficio di presidenza nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comune d'Italia, c'era il dottor Pasquale Accardo, che era il sindaco di Torre del Greco. Alla provincia tenevamo tre, quattro consiglieri provinciali. In regione esistavamo. Dobbiamo riprenderci il ruolo che ci spetta. Un evento dunque che veda anche protagonisti giovani, magari i giovani talentuosi di questo territorio. Certamente i giovani talentuosi, ma io dico i giovani di buona volontà, quelli che hanno voglia di fare. Quali sono invece i suoi ricordi più belli legati alla festa dei quattro altari? La ricordo come la festa dei giocattoli, delle leccornie. Poi successivamente da adulta mi ha appassionato molto il vedere tanta gente, questa coesione che sembrava legare allora in maniera estremamente forte e solida il popolo turrise. Recuperare non soltanto una festa, ma una grande tradizione che congiunge religiosità, storia e futuro di una città come Torre del Greco. C'è una nuova amministrazione, speriamo che voglia riprendere un discorso che purtroppo si è interrotto nel 2008. Quindi è da allora che non si fa più la festa dei quattro altari. Torre del Greco ha tutte le potenzialità per riprendere questa grande tradizione popolare di festa religiosa che via via però si è caricata anche di valori civici e culturali, artistico-culturali molto precisi. Professore Madonna, stasera qui al Circolo Nautico si parla del recupero della festa dei quattro altari, un tema a voi molto caro visto che la galleria ha ospitato un'importante mostra proprio su questo. È stata una mostra straordinaria con il padrocino della città metropolitana di Napoli con un bellissimo catà. La festa si può fare, bisogna avere delle idee e rinnovarla secondo un criterio assolutamente tecnologico. L'ultima festa dei quattro altari è stata circa dieci anni fa, dodici anni fa. Io ero assessore all'epoca. Io ne ho fatta una nel 1999 come direttore artistico assieme al compianto, a uno dei miti della festa dei quattro altari, il compianto professor Salvatore Flavio Raiola. Poi circa 8-10 anni dopo mi trovai ad essere assessore a cultura, turismo e spettacolo e mi occupai della festa. Fu una festa che improntammo, ed è un peccato perché poi è stata l'ultima, sul ricominciare con le nuove generazioni. Infatti volli fermamente, in questo devo dire la verità, appoggiato in pieno dalla Curia, dal Consiglio Episcopale di Torre del Greco, nell'introdurre nuovi altaristi giovani. Fu quello l'anno in cui per la prima volta una donna fece un altare a Torre del Greco. Fu quello l'anno in cui per la prima volta l'Istituto d'Arte partecipò alla festa dei quattro altari. Spero che con questa nuova amministrazione avremo finalmente il ritorno della festa dei quattro altari. Qual è l'impegno della sua amministrazione in tal senso? Faremo un giorno dedicato alla festa dei quattro altari, una festa dei quattro altari punto zero, io la chiamo così, che ricorderemo la storia sostanzialmente della festa dei quattro altari per poi lavorare per l'anno prossimo per la vera festa dei quattro altari. Un punto di partenza per un rilancio anche in chiave turistica di questa città? Sì, perché la festa dei quattro altari deve essere proprio uno spunto, cioè quello di dare non solo ai cittadini di Torre del Greco questa festa che ormai manca da tanto, anzi io direi da troppo tempo, ma fare in modo che questa abbia un rilancio non solo nella regione ma anche a livello nazionale perché è idea anche di lavorare e mettere in modo un meccanismo che possa rilanciare il nome di Torre del Greco, insomma, in una parte molto più ampia, cioè a livello nazionale. Un progetto che si articolerà in rete, che convolgerà anche gli artisti locali? Soprattutto gli artisti locali, gli artisti, i musicisti, gli scultori, i pittori, insomma, tutto ciò che propone Torre del Greco, che non è poco, perché Torre del Greco ha tantissimi artisti veramente di grande rilievo e quindi siamo orgogliosi ovviamente non solo di questo ma quello di rilanciare proprio il nome dell'arte, il nome della cultura a Torre del Greco.